Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Lucas Games su YouTube e su quella piattaforma viola dovete in live tutti i giorni trovate il link in descrizione. E proprio in questi giorni su quella piattaforma viola stiamo testando FM22, quindi se avete delle curiosità, se volete insomma costruire una tattica nuova, avete difficoltà magari nel costruirla o volete semplicemente condividere la vostra fantastica tattica, potremo utilizzare anche la vostra tattica in live su quella piattaforma viola. Ma oggi di cosa parliamo? In questo video vediamo la Flute Skin Dark, una skin che ha una valanga di funzionalità di cui non riuscirete più a fare a meno una volta installata ed è una skin che va anche a cambiare un po' i colori del gioco e anche un po' la grafica dell'interfaccia di gioco. Vediamo dove si scarica questa skin. La Flute Skin Dark per FM22 la potete scaricare dal sito di FMScout, ovviamente questo è il link nello specifico che vi lascerò ovviamente in descrizione perché si chiama Flute Skin, perché la creata Flute, semplice. Quindi andiamo su Download che come potete vedere non pesa neanche poco, sono 144 MB ma non vi preoccupate, non vi rallenterà il gioco. Andiamo su Download Now, attendiamo il reindirizzamento verso il sito di Mediafire, ovviamente qui dovremo pigiare poi sul pulsantino blu di download. Poi vedrete insomma già qui in basso a sinistra che il file viene scaricato, quindi attendiamo che lo scaricamento termini e poi ci rivediamo nella cartella dove voi normalmente scaricate il materiale da internet che per me è la cartella di download. Attenzione, se leggete il titolo c'è scritto Beta Version, questo perché non è in beta la skin, perché sono dieci anni che il ragazzo la fa, quindi ha semplicemente aggiunto le funzionalità che va messo anche negli anni passati, ma è il gioco FM22 ad essere in beta, questo vi deve far capire che quando poi uscirà la versione definitiva il 9 di novembre, perché ad oggi sto registrando in data 26 ottobre, questa skin dovrà essere riscaricata perché tutte le skin che voi scaricate quando il gioco è in beta durano fino a quando il gioco è in beta, poi dovranno essere tutte riscaricate, perché potrebbero non funzionare benissimo perché alcune cose nell'interfaccia vengono cambiate dagli sviluppatori, questo è molto importante, mi raccomando. Come si fa poi a installare la versione nuova? Bisognerà prima passare dalla versione fruit skin, che vi farò vedere oggi come appunto installare, alla versione normale del gioco, quindi quella disponibile sin dall'inizio, poi dovrete uscire dal gioco, cancellare la cartella della vecchia versione, aggiungere la cartella della nuova versione e poi farete ripartire FM22 e aggiungerete un'altra volta la fruit skin in versione aggiornata. Quindi ricordatevi di ritornare su questo link a partire dal 9 novembre in poi, ora non so se il signor fruit la preparerà il 9, il 10 o l'11 la nuova versione, immagino lo stesso giorno dell'uscita del gioco, magari al massimo il giorno dopo, ma lo capirete se è stato aggiornato o meno perché qui chiaramente viene riportato sempre il giorno e il mese di aggiornamento delle skin e poi tra l'altro scomparirà ovviamente la dicitura beta version. Ovviamente quando uscirà la versione definitiva vi metterò anche un messaggio in evidenza a questo video per dirvi ragazzi dovete scaricare la nuova versione e vi aggiungerò anche il link qualora dovesse essere aggiornato, ma non penso, penso che utilizzeranno sempre questo stesso link. Mi raccomando, una volta quindi scaricato questo materiale non ci resta altro da fare che andarlo a decomprimere perché al momento è un file compresso e richiede un programma di decompressione, ce ne sono tanti di gratuiti come WeRAR e 7SIP, io al solito utilizzo 7SIP. Tasso adesso il mouse in presenza di Fluteskin FM22 Beta, compare questo menu, andiamo su 7SIP e poi andiamo su Estrai in Fluteskin FM22 Beta e attendiamo che il processo termini. Terminato il processo di estrazione abbiamo quindi una cartella omonima, ci entriamo dentro, attenzione, dovete andare a prendere questo file specifico, ovvero FM2022 Fluteskin Underscore Dark, lo copiate o lo tagliate, dopodiché vi spostate in Documenti, Sports Interactive, Football Manager 2022, dopodiché qua ci sta la cartella skin. Attenzione, se non avete la cartella skin, tasto adesso il mouse in un punto qualsiasi dello schermo, andate su Nuovo, andate su Cartella e la riluminate proprio skin con la S finale, mi raccomando io non lo faccio perché ce l'ho già. Entriamo all'interno della cartella skin, qui tasto adesso il mouse in un punto qualsiasi dello schermo e poi andate su Incolla, io non lo faccio perché come vedete l'ho già fatto e già qui presente appunto la FM2022 Fluteskin Dark. Adesso e solo adesso facciamo partire FM2022. Una volta avviato FM2022, come al solito bisogna andare prima su Preferenze, dopodiché ci spostiamo da Generale in avanzata, qui dove c'è scritto più comuni ci clicchiamo, andiamo su Interfaccia e poi al paragrafo skin dobbiamo sempre verificare che la casellina usa la cache per ridurre i tempi di caricamento sia deselezionata e che sia invece selezionata la casellina ricarica la skin quando si confermano le modifiche. Se non eravate già in questa condizione andate su Conferma e attendete che si ricarica ovviamente l'interfaccia, se eravate già qua vi potete spostare su Generale, dopodiché qui dove c'è scritto Skin ci cliccate e andate a selezionare la Fluteskin Dark Beta, dopodiché andate qui in basso, c'è scritto Resetta, andate su Suvota Cache e poi andate su Conferma e attendete ovviamente che il caricamento termini. Capite che tutto è andato a buon fine perché cambia proprio la schermata, vedete come ci sta questa scritta, FM2022 Fruit Skin Dark. A me sinceramente questa trasparenza non fa impazzire, mi piaceva più l'anno scorso quando il menu non era trasparente, questa trasparenza qui in atto tutto sommato non mi dà fastidio ma questo insomma mi piace un po' di meno. Sa di fatto che a parte questi gusti personali andiamo a cliccare su Carica un Save qualsiasi e vediamo come si presenta questa skin. Se avete installato qualche pacchetto in background come Stadi e Città, ovviamente partirà subito l'immaginetta in sfondo. Se volete toglierla basta cliccare su BS, qui potete ovviamente scegliere poi uno sfondo di vostro gradimento. A me per esempio piacciono gli sfondi scuri perché voglio leggere bene le informazioni, non voglio che un'immagine sottostante in qualche modo vada sporcare o comunque farmi distrarre. Questo quindi è la possibilità che abbiamo cambiando appunto lo sfondo grazie a questi sfondi preimpostati. Andiamo subito sulle tattiche, come potete appunto notare ritorna grazie a questa skin il discorso del cerchietto di idoneità quindi chi vuole un'altra volta ripristinare questa funzionalità avrà la possibilità di farlo grazie a questa skin. Come vedete avete anche le faccine accanto alle magliette ma ovviamente le potrete vedere tutte se avrete scaricato a parte un face pack che chiaramente non può essere presente all'interno di una skin perché i face pack pesano giga e giga, questa skin pesa solamente 140 megabyte. Detto questo purtroppo non compaiono le percentuali, quindi insomma non ripristina le percentuali quindi per chi non ama diciamo il cuore dovrà farselo piacere lo stesso con questa skin. Andiamo sulle info societarie perché? Perché qua si vedono i pacchetti delle città e degli stadi quindi abbiamo già parlato in un altro video di come andare a installare questi pacchetti vedete com'è bello insomma vedere Firenze qui alla centro-sinistra e vedere insomma lo stadio sia in festa come in questo caso dall'esterno sia invece dall'interno. Vedete com'è bello anche qui in alto, diciamo ci sta anche uno spaccato su quella che è il paese dove si trova questa squadra siccome siamo in Italia ovviamente ci ha messo un bel punticino su Italia se vi trovate ad allenare che ne so nel Burundi ci sarà chiaramente l'iconcina sul Burundi. In questa schermata ci sono un sacco di informazioni importanti e ti permettono anche di passare ad altre informazioni senza spostarvi da questo punto centrale per esempio qua vediamo le figure più importanti del club ma se spostiamo il cursore sui acerimi rivali dovrebbero comparire gli acerimi rivali evidentemente non sono stati inseriti dagli sviluppatori abbiamo anche le squadre rivali al momento Pisa ed Empoli poi ci sono anche le partite e i risultati che sono stati portati avanti anche i club affiliati. Qui in basso invece sul centro-sinistra abbiamo di base la visuale dei trofei che sono originali. Attenzione però per poter avere proprio queste immaginette belle dei trofei ovviamente vanno scaricati a parte perché pesano giga e giga e ovviamente non sarebbero possibili da inserire in una skin qualsiasi essa sia insomma. Quindi vanno scaricati a parte abbiamo già fatto un video su dove andare a scaricare e installare poi questi trofei ma anche come installare e scaricare appunto i log originali di tutte le squadre perché come sapete non sono presenti tutti quanti per questione di copyright questa è una funzionalità davvero molto potente ovvero finanze e stipendi vi fa capire appunto quando sta spendendo quella squadra non vale solamente per voi queste informazioni ma valgono anche per gli altri club poi vedremo e soprattutto quando viene fatta un'offerta sapete se potete magari provare a tirare un po' più verso l'alto valutando insomma se quella squadra i soldi realmente ce li ha o meno. Vi faccio vedere che vale anche per gli altri club noi qui siamo al comando della Fiorentina ma vedete che possiamo anche vedere le finanze e gli stipendi ad esempio del Genoa. Ritorniamo però sulla Fiorentina perché andiamo avanti si vede anche lo stadio dei giocatori si vedono le leggende appunto della società le icone e lo staff preferito per quanto riguarda la storia della Viola. Un'altra chicca grafica si trova nel calendario perché se andate a cliccare sulle singole partite voi vedrete lo stadio in cui avete giocato questo per esempio è quello di Udine poi ci sta quello della Roma ci sta quello del quello Osto perché qua si giocava in casa qua ci sta lo stadio del Torino insomma una chicca grafica che potrebbe apprezzare più di qualcuno ma la vera cosa interessante è un'altra ovvero se io provo ad andare in vacanza andiamo magari in vacanza fino alla prossima partita vedete come in alto a destra ma ci sono anche risultati che si stanno concretizzando quindi se andate a simulare una stagione intera perché state facendo un esperimento perché magari volete testare una tattica ecco potete anche controllare in alto a destra i risultati che state facendo quindi se chiaramente qualcosa non va perché la vostra tattica che state testando sta andando male potete ritornare ricambiarla subito insomma senza attendere l'intero anno ma quando arriva il giorno della partita voi potete sfruttare con questa skin anche una funzionalità comodissima che non è presente nella normale skin di FM22 ovvero il risultato istantaneo magari non vi va di giocare un amichevole magari non vi va di giocare una partita perché l'avversario è troppo scarso magari siete in un doppio scontro di coppa avete già stravinto all'andata e quindi volete saltare il ritorno o ancora siete magari quel giocatore di FM che non vuole scendere sempre in campo ma vuole semplicemente fare in mercato piazzare la formazione e andare sul risultato istantaneo lo potete fare grazie a questa skin come avete visto compare anche la bandiera della nazionalità sotto alla liconcina del giocatore che avete scritto in campo altra chicca grafica insomma avete visto che è molto curata per questa partita sfrutteremo il modulo di Adamuccio che mi segue su quella piattaforma viola quindi omaggiamo Adamuccio vediamo un po' cosa combiniamo con questa formazione andiamo su sì andiamo quindi a simulare l'incontro clicchiamo su continua e vediamo cosa combiniamo contro il Sassuolo risultato finale 1 a 1 quindi sicuramente un amichevole combattutissima tra Sassuolo e Roma andiamo anche a vedere come cambia l'interfaccia grazie a questa skin una volta scesi in campo questo è il prematch con tanto di bigliettino grafico che ci fa capire che stiamo giocando contro il Milan quindi andiamo avanti scegliamo una frase a caso e vediamo come si presenta l'interfaccia vedete come in alto voi trovate non solo i nomi dei due team e i loghi delle squadre ma anche i volti e i nomi dei vari allenatori poi trovate anche altre informazioni per esempio il nome dello stadio e anche se ci sta pioggia, neve insomma anche i gradi della partita vengono riportati tutti qui in alto c'è anche un'altra chicca grafica però con questa skin guardate in alto a destra c'è scritto Sky Sport HD ovviamente potete cambiare anche il logo io ho scelto quello di Sky Sport perché di base questa skin viene da un altro volendo potete anche andare oltre i loghini che sono già presenti nella cartella che poi andremo a vedere potete scaricarlo da internet quindi magari, non lo so, volete piazzare il logo di Sport Puglia TV o magari di qualsiasi altro canale di fantasia o reale e poi dovete rispettare chiaramente delle dimensioni che andremo a vedere dopo e lo potrete avere ovviamente in partita non vi piace, non lo volete, lo potete ovviamente anche togliere questa invece è la schermata quando non ci sono azioni a schermo da vedere e quindi potete andare a restringere e allargare questo pannello potete anche andare a cambiare le informazioni che si vedono magari non vi piace vedere le due formazioni come schieramenti potete ovviamente cliccare sulla freccetta in basso e vedere, che ne so, le sensazioni sulla Roma oppure potete andare a vedere, che ne so, le strutture delle squadre oppure potete andare a vedere, che ne so, l'analisi interna che tra l'altro stava già sopra quindi insomma potete andare a personalizzare come volete questi pannelli se invece state già al quarantesimo e state vincendo, che ne so, 5-0 contro il vostro rivale quindi sentite che la partita sia già in cassaforte potete anche, attenzione, simulare i restanti minuti quindi non dovete per forza portare a termine l'intero incontro come si fa? si clicca su questa freccia in alto a destra compare questo piccolo menu basta pigiare su IR che sarebbe appunto risultato istantaneo e quindi lui ti dice, sei davvero sicuro? voi dite sì e ovviamente la partita verrà simulata e in questo caso la Roma contro il Milan cosa combinerà? perdiamo 4-2 partite sicuramente condizionate da errori arbitrali incredibili ci hanno derubato del risultato ma chiaramente siamo ancora all'inizio, si scherza questa invece è la schermata sui singoli cacciatori ed è anche quella che è stata ritoccata maggiormente dalla fluteskin tra tutte le altre schermate io mi sposto un attimino qua perché vi faccio vedere per esempio che qua in basso si può andare a visualizzare la sintesi sullo status del trasferimento magari se ci sta un prezzo che avete concordato una disponibilità al prestito e compagnia bella insomma viene poi riportato ovviamente tutti questi pannelli quando hanno la fraccetta verso il basso sono personalizzabili quindi potete cambiare l'informazione magari non vi interessa questa volete vedere che ne so i dettagli personali del calciatore ovviamente non tutti i pannelli sono disponibili per tutte le informazioni perché ci sono informazioni che richiedono un'area magari maggiore di interesse per esempio io qua non ci avevo di base l'allenamento individuale l'ho messo io e mettendo qui l'allenamento individuale non dovrò andare per forza nella schermata allenamento individuale per andare a modificare per esempio la posizione e il ruolo del signor Tarbo o per esempio già da qui posso andare ad aggiungere un focus aggiuntivo ovviamente qua al 100 trovate le statistiche del giocatore con un'informazione in alto a destra molto importante ovvero il piede più forte ma anche il piede debole non solo con un aggettivo ma anche con un colore grafico che vi fa capire subito se magari quel giocatore può essere piazzato in una data posizione ci sono giocatori che possono giocare tanto a destra tanto a sinistra ma è chiaro che in base anche a ruolo c'è bisogno di un piede più importante tendenzialmente quando si gioca a destra bisogna avere il piede destro quando si gioca a sinistra bisogna avere il piede sinistro dominante però ci sono anche ruoli che richiedono invece il piede opposto rispetto alla posizione come può essere per esempio l'ali invertita, l'attaccante esterno dopodiché ci sono anche le dinamiche che ci fanno capire insomma se ci sono delle particolari problematiche abbiamo lo status chiaramente dell'infortunio o meno del giocatore abbiamo ulteriori informazioni abbiamo per esempio una sintesi dove potrebbe rendere meglio abbiamo il contratto che viene sviscerato in ogni sua parte quindi se ci sta una clausola quando impatta sul monte totale insomma e poi possiamo anche analizzare quando si va avanti nel tempo anche le statistiche insomma sono pannelli personalizzabili sono pannelli che ci permettono di vedere un sacco di informazioni utilissime che normalmente invece nella skin di base di gioco non si vedono subito in una stessa schermata ma bisogna andare un po' a destra e a manca per riuscire a recuperare tutte le informazioni quindi secondo me questo è un altro punto di forza della Flute Skin Dark attenzione quando scaricate una skin dovete sempre informarvi su quelle che sono le dimensioni che vengono supportate quindi la risoluzione con cui bisogna giocare qui per esempio c'è un supporto al 4K con zoom a 200 e c'è anche il supporto al 1920x1800 ovvero il full HD a schermo intero altre risoluzioni ci dice il creatore potrebbero non far vedere tutto correttamente questo è molto importante come si fa quindi a modificare la risoluzione su FM basta andare qui su FM poi cliccate su preferenze dopodiché si apre questa schermata da generale vi spostate in avanzata qui dove c'è scritto più comuni ci cliccate andate su generale e qui trovate appunto la risoluzione che potete andare a modificare e qua lo zoom che potete andare a modificare io come vedete ho provato tutto con il full HD e con lo zoom normale ovvero il 100% vediamo adesso anche come si fa a cambiare quel lughino in alto a destra quando si gioca una partita e vedete appunto le azioni io avevo Sky Sports se vi ricordate in alto a destra ma voi volete potete cambiare quindi basta andare in documenti Sports Interactive Football Manager 2022 poi apriamo la cartella Skin apriamo la cartella Flute Dark Skin entriamo dentro Graphics entriamo dentro Icons e poi apriamo per l'ultima volta TV Logos e qui come vedete c'è proprio il logino che utilizzavo io durante l'arco della gara se non volete alcun logo basta cancellare questi loghi o prenderli e metterli dentro questa cartella cosa ci sta dentro questa cartella? ci sono loghi alternativi quindi se volete altri loghi se vi fa piacere qualcuno che sta qui dentro prendete uno che sta qui dentro ne volete creare uno da voi scaricatelo da internet o fatelo da voi e poi insomma però dategli le dimensioni giuste quali sono le dimensioni giuste allora il logo deve essere uguale e uno deve avere un'altezza massima di 25 pixel ora vi faccio vedere io apro per esempio questo con il normalissimo Paint come vedete qua viene riportata l'altezza in pixel quindi per creare il logo diciamo più grosso che deve avere invece 50 di pixel come altezza basterà semplicemente andare su ridimensiona spostarci su pixel e mettere qua 50 perché vi dico questo? perché dentro quella cartella di prima alle volte ci sta un solo logo non ce ne stanno due quindi l'altro lo dovete creare da voi l'importante è ripeto che uno abbia 25 come altezza di pixel e il secondo ne abbia 50 non è semplicemente solo questo quello che dovete fare quando voi andate a salvare il tutto andate su salva nome con dovete mi raccomando salvare il file come png questo è molto importante l'ultimissima cosa che quindi dovete fare anche se prendete il file da qui dentro è rinominarlo sempre con questi due termini altrimenti poi il gioco non riesce a leggerlo il primo file quello più piccolo con 25 pixel lo dovete chiamare sempre tv lasciate uno spazio logo il secondo va sempre nominato invece così tv spazio logo chiocciola 2x che sta a indicare appunto che è la versione con l'attezza doppia questo è molto molto importante questo è il video sulla fruit skin dark è la seconda skin che stiamo analizzando per FM22 ma prossimamente arriveranno anche altri video su altre skin per farvi conoscere insomma quello che può offrire alla community in termini di funzionalità in più ma anche in termini di cambiamenti grafici magari qualcuno può voler avere un'impostazione grafica differente non gli piace magari di base quel viola che ci sta con FM non mi resta altro da fare che salutarvi ci vediamo qui su youtube per un prossimo video di FM22 o su quella piattaforma viola tutti i giorni in live con FM22 buon sapone